La V and Rose. Oggi analizziamo insieme questo brano, questa canzone famosissima, conosciuta da tutto il mondo come emblema dell'amore romantico. Il testo è stato scritto da anche la stessa interprete, Edith Piaf, e la musica, la melodia, è stata scritta da Louise Guglielmi. In questa partitura è scritto male, c'è scritto Guglielmi, ma è Guglielmi. Il testo è stato scritto nel 1945, ho letto, anche se qua c'è scritto, viene citato la data del 1946, adesso non so se poi è diventata famosa questa canzone un anno dopo. Se voi sapete qualcosa in più su questa canzone scrivetemi nei commenti. E che cosa dire? Appunto, come dicevamo, è una delle canzoni più famose probabilmente al mondo del Novecento e che appunto è diventata l'emblema degli innamorati, dell'amore romantico. Oggi analizziamo insieme questa canzone, non è difficile, però magari qualcuno sarà sicuramente interessato di vedere un'analisi leggermente più approfondita di una canzone così famosa. Quindi andiamo subito a analizzare questo brano. Una curiosità che nel jazz sicuramente lo saprete, basta che andate a fare, scrivete La Vie en Rose su YouTube. Da un punto di vista jazz l'ha reinterpretata anche Louise Armstrong. Ok. Partiamo direttamente dalla A perché l'intro lo tralasciamo in questo momento. E quindi partiamo da qui, dove c'è l'A, da questo DO. Non c'è nessuna alterazione in chiave, quindi ci fa intendere che siamo in DO. In questo caso sicuramente non ci piove, nel senso molto tonale questo brano. E la melodia è veramente una melodia super melodica. C'è giusto un cromatismo, vedo qua sul DO diesis, questo DO diesis, sul SOL settima. E ci sono proprio delle peculiari armonie delle ballate, delle song appunto. E ok, allora segniamo subito i 2.5 e le risoluzioni delle dominanti e poi incominciamo subito. Comunque sarà molto veloce questa analisi, ok? Allora, partiamo da qui. Questi potrebbero essere visti come due e cinque, anche se da un punto di vista del diritto armonico sarebbe un po' assurdo vederli come due e cinque, però ovviamente possono essere visti come un secondo o quinto. Parlo di questo la settima e la settima. Ok. Ok. Ok, questa freccia che ho, l'ultima che ho fatto, si collega a questo SOL, ok? Perché questa dominante viene posta qui appunto per poi rilanciare il brano, come succede spesso, come ormai chi mi segue sa. Allora, una delle cose peculiari di questi brani, di queste ballad, mi viene in mente anche in Just Jiggle All, viene utilizzata solitamente, è questo espediente armonico che viene chiamato line cliché. Ok, che cosa vuol dire line cliché? Appunto significa il cliché delle linee, delle linee melodiche in questo caso. E appunto quando c'è un primo grado, che solitamente può durare tre battute, insomma anche meno, a seconda del brano, è utilizzato sia in ambito maggiore che in minore, in minore mi viene in mente in A Sentimental Mood di Duke Ellington, utilizza sempre questo movimento delle voci interne, e appunto nel maggiore solitamente queste voci partono da un primo grado, che non ha una settima, e da un primo grado poi major seven, e poi da un primo grado sesta. Che cosa vuol dire? Che sono tutti accordi di primo grado, ma all'interno di questa sequenza accade che una voce cambia, che propriamente crea quell'effetto, possiamo dire in termini emotivi, romantico, nostalgico, infatti è molto utilizzato in queste ballad, ok? E quindi molto sentimentale, che crea appunto questo stato molto sentimentale nell'ascoltatore. Quindi che cosa vuol dire? Da un punto di vista pratico, in questo caso, per far venire bene questo effetto, ovviamente il primo accordo, questo qui, dovrà essere un accordo di triade, o comunque un rivolto, dipende poi che strumento utilizzate. Nella chitarra pensiamo in un modo, nel pianoforte i pianisti pensano in un altro, e ad esempio sulla chitarra queste voci spesso si muovono a livello interno dell'accordo, o se no potreste anche provare a fare questo effetto facendo cantare, ad esempio in questo caso del do, fate cantare il do su questo primo grado, fate cantare il si su questo do maggiore settima, e fate cantare il la su questo do sesta, e crea proprio questo effetto, che può essere sia messo al canto, parlando delle voci dell'accompagnamento, sempre non sto parlando di melodia, o all'interno. Ovviamente la scelta dei voicing devono essere sempre in funzione della melodia, quindi del cantante che state accompagnando, o del solista che state accompagnando, che può essere anche un fiato, o anche una chitarra, o qualsiasi strumento. Ok, e quindi è una prassi molto comune quella del line cliché, che crea appunto questo effetto. Purtroppo non ho, non posso farvi sentire, ma comunque provate a suonare questi tre accordi in sequenza, questo do maggiore puro senza una settima e sesta, successivamente suonate un do major seven, e poi un do sesta, crea proprio questo effetto, il line cliché, in questo caso maggiore, ok? Solitamente dopo il do sesta, l'encliché può essere concluso con il quinto del secondo, in questo caso qui potrebbe suonare molto bene un la settima qua, ok? Che va poi ad introdurre questo secondo grado, suona bene ed ha anche un senso molto jazz. Ok, ve lo segno così come idea che potete inserire, che ovviamente in questo caso se fosse qui sarebbe una dominante del secondo grado di do, ovviamente. Ok, andiamo avanti. Quindi questo sarebbe un secondo, questo un quinto, questo un secondo, questo un quinto, questo un secondo, e questo un quinto. Vi scrivo qua sotto le due scale che valgono per tutti questi, re minore settima, sol settima, che sono sempre sul secondo dorico, sul quinto misolidio. Ok, allora, una delle cose che vedo peculiari di questo brano, che io non l'ho suonato molto, c'è un video su questo canale in cui avevo suonato la melodia, vi consiglio di andarlo a guardare, e non mi ricordo di questo accordo, non so se nella partitura originale c'è, e comunque questo è sempre un primo grado, diminuito ovviamente in questo caso, e sono delle prassi utilizzate, se non sbaglio vengono chiamati diminuiti statici, ma non vorrei sbagliarmi, dovrei andare a controllare, e vengono utilizzati questo primo grado che diventa diminuito, creano sempre una tensione, che poi va a risolversi su un accordo ovviamente distensivo, quindi pensiamo in questo caso che qua c'è una tensione, qua c'è una tensione, qua c'è il quinto grado puro del do, quindi un quinto grado perfetto del do, in questo caso vi scrivo subito misolidio, che poi va a risolvere su un do, quindi ci può far intendere anche del perché ci possa essere qui questo primo diminuito. Se voi conoscete un'altra partitura, che appunto non c'è questo primo diminuito, fatemelo sapere. Comunque in questo caso, su questo primo diminuito, solitamente o utilizzate nell'improvvisazione un arpeggio diminuito, o appunto questi diminuiti inseriti in una balla o in una song, o vengono visti in due modi, o utilizzate la scala più utilizzata sui accordi diminuiti, che è la scala diminuita, ovvero la scala ottofonica, o appunto potreste creare, potreste prendere le note che compongono l'accordo di do diminuito e nelle note di passaggio tra i short tones, ovvero le note dell'accordo, potreste inserire le note che fanno parte della tonalità di impianto del brano. In questo caso la tonalità di impianto è do maggiore, ok? Quindi non vi segno niente, anche perché volendo potreste anche mettere sempre un re minore su questo do diminuito, però penso che questo primo diminuito abbia un senso anche armonico sulla melodia. Adesso non vorrei dirvi delle cose che non ho approfondito, però penso di sì. Ok, andiamo avanti su questa parte, sulla B, ok? E come vedete viene sempre ripesa un po' le prime due battute che possiamo dire che è la cellula ritmico-melodica fondamentale di questa canzone, ovvero questa. Come vedete viene ripresa anche qui, poi riviene presa anche la prima parte alla fine e poi cambia. Ok, quindi andiamo su questa parte, ovvero che qua fa sempre line cliché, quindi non vi segno sempre le stesse cose. Ecco, una cosa che mi sono dimenticato di scrivervi che scala utilizzare su questo line cliché, ma non dovete utilizzare delle scale particolari. Usate sempre una scala maggiore, sempre un primo grado, ok? Questo movimento armonico del primo, primo major seven, primo sesto, è sempre legato a un discorso armonico. Ok, poi questo do settima, arrivando qui, questo è il quinto del quarto. Ok, sul quinto del quarto va una misolidia. Ok, il quarto dov'è? Il quarto è proprio questo fa maggiore. Come vi ho già detto, quando c'è un quarto grado preceduto dalla sua dominante, quindi che c'è la dominante secondaria del quarto grado, è come se il quarto grado si tonicizzasse, quindi su questo fa non scrivo una lidia, ma scrivo una ionia, o un modo ionio. Ok, quindi vi metto anche qui questo quarto grado, poi questo quarto grado diventa un quarto grado minore, classico, spediente armonico, che questo è un modal interchange. Ad esempio questo passaggio c'è chiaramente quasi uguale in all of me. Ok, quindi su questo quarto grado, sempre ionio, su questo quarto grado minore, solitamente in questo, che in questo caso sarebbe meglio anche scrivere fa sesta minore, su questo fa sesta minore, allora ci sono due opzioni, o usate una dorica, o potreste usare una dorica, nel senso che utilizzate la scala minore più utilizzata, o utilizzate una scala minore melodica di fa. Solitamente quando c'è un quarto minore, la scala minore melodica, che può essere vista come jazz minor, insomma, o come scala bacchiana, adesso in base a come la conoscete, viene spesso utilizzata nel quarto minore. Ok, poi questo do è sempre primo grado, quindi scala maggiore, vado avanti, non sto a segnarvelo. Questo la minore settima, in relazione al do, è un sesto grado, quindi sul sesto grado va l'eolia. Questo re settima è il quinto del quinto, quindi è il quinto grado, è una dominante secondaria, quindi è il quinto, ecco, mi ero dimenticato di scriverlo, potrebbe essere visto come il quinto di questo sol settima, che scalavava una misolidia, quindi qua siamo sempre due cinque di do, in questo caso, vanno sempre le stesse scale, non sto a riscrivervele, quindi in questo caso qua dorico, qua misolidio, e qua torniamo su un primo grado alla fine, primo grado, primo grado anche do major 7, quindi le scale non ve le scrivo, sono un attimo di fretta, e quindi qua va ionio, ionio, questo è un secondo, questo è un quinto, sempre, questo è un primo, e questo è il quinto del primo, sempre che poi va a risolvere, qui, ovviamente sul secondo e sul quinto, sempre in questo caso dorico, qui, misolidio, ovviamente sul primo grado, ionio, qui e qua, quinto grado, misolidio, ok? Ok, penso di avervi detto tutto, probabilmente la cosa più che possiamo stare a riflettere era questo primo grado diminuito, che effettivamente non ho avuto tempo di fare delle ricerche più approfondite, non so se è stata una scelta di chi ha scritto questa parte o se è stata utilizzata, probabilmente per chi l'ha suonata tantissime volte potrebbe prendermi in giro, perché magari sa benissimo che accordo c'è, però purtroppo io l'ho suonato veramente poco e le armonie sono differenti in base a che partitura abbiamo di fronte, però più o meno vi ho introdotto all'idea del line cliché, che è molto importante, che avviene in questo brano e in tantissimi altri brani, quindi qui, che viene su questi accordi appunto, quindi il primo grado, che poi si trasforma in un primo grado major 7, e poi un primo grado di sesta, ok? Che crea proprio questo effetto nostalgico, romantico, dove appunto c'è una voce che si muove, ma l'accordo è sempre di primo grado, ok? Poi magari facciamo un video di approfondimento su questo. Spero che questo video ti sia piaciuto, se sei qua per la prima volta iscriviti al canale, lascia un like, ci vediamo al prossimo video e ti auguro un buono studio e a presto. Ciao!